Ciao ragazze, siete qui? Io sono sul mio terrazzo e sto leggendo questa rivista. Sarà proprio questo l'argomento di questo video, come raggiungere il proprio benessere psicofisico. Ciao a tutte ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi mi trovate qui con il mio amato computer, non sono con i miei soliti trucchi, perché ho preso alcuni appunti riguardo un argomento che a me mi sta molto al cuore. Quindi andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Come ben sapete è importante prendersi cura del proprio corpo, ma non solamente per quanto riguarda creme, trucco e quant'altro, ma è molto importante anche salvaguardare il nostro benessere psicofisico. Oggi voglio dividere con voi questo argomento in 5 punti. Il primo punto è andare a mangiare in modo sano. Un'alimentazione equilibrata e sana incide positivamente sul nostro organismo e quindi bisogna variare il più possibile ciò che noi andiamo a mangiare. Bisogna mangiare più frutta, verdura, piuttosto che andare a mangiare il solito gelato oppure le solite merendine. Un prodotto che fa molto bene e che noi tutti conosciamo è lo yogurt, ma non tutti noi sappiamo che all'interno dello yogurt comunque è presente una notevole quantità di zuccheri che comunque fanno male al nostro benessere. Quanto basterebbe solamente comprare dello yogurt bianco, quello con zero grassi, e aggiungere semplicemente un po' di frutta fresca. E vedrete che comunque andrete a mangiare un alimento sano e allo stesso tempo anche molto nutriente. Un prodotto che andrei ad acquistare in sostituzione allo yogurt sarebbe lo scry. Questo scry lo andate a trovare alla Lidl. È molto buono rispetto allo yogurt perché all'interno è molto proteico. A differenza magari degli altri yogurt dove all'interno ci sono molti grassi e anche zuccheri, questo scry è molto più buono perché ci sono tante proteine. Inoltre ci sono anche molti gusti, tra cui fragola, mirtilli, alla vaniglia. Quindi è davvero molto buono. Io ve lo consiglio, se non l'avete provato, andatelo a provare perché è ottimo. Anche a livello nutrizionale. Il secondo punto è fare attività fisica. Ormai si sa che le nostre giornate sono molto frenetiche, ma è molto importante a volte ritagliarsi del tempo per noi e quindi andare a fare dell'attività fisica. Non per forza dobbiamo fare attività a livello agonistico, ma basta anche semplicemente andare a fare una passeggiata, piuttosto che andare a fare un giro in bici, a correre. Oppure molto semplicemente basterebbe andare su YouTube, andare a trovare un programma di allenamento adatto a noi e farlo appunto. Se questa idea vi piace, magari possiamo realizzare un video dove vi mostro il mio programma di allenamento e magari ci possiamo allenare insieme. Altri benefici di movimento molto importanti aiutano solo il corpo ma anche la mente. Ma ci sono ancora ulteriori benefici che sono rafforza il sistema immunitario, migliora la circolazione, rafforza l'apparato respiratorio, contrasta lo stress, l'ansia e mette anche di buon umore. Il terzo punto è allontanarsi dalle situazioni che non procurano serenità. Non è facile neppure immediato, però cercare di tenere a distanza ciò che non fa star bene può fare davvero la differenza. Capita a tutti purtroppo di avere delle giornate un po' negative, come ad esempio litigare col proprio partner, oppure avere un esame, o molto semplicemente avere un lavoro un po' più intenso. Ma comunque tutto questo comporta avere un notevole stress e ansia. Dobbiamo comunque cercare di ritagliarci del tempo, magari quando succedono questi avvenimenti, io solitamente mi metto le cuffie e vado a correre. Magari in questo modo esco un po' da questa situazione, cerco di rilassarmi e ritornare di nuovo in me. Quindi vi consiglio veramente di farlo, di fare anche voi in questo modo, perché vi assicuro che noterete molti benefici, non solo mentali ma anche fisici. Il terzo punto è migliorare l'ambiente circostante. Il luogo di lavoro, come anche l'ambiente domestico, sono i posti in cui trascorriamo molto tempo. Quindi è molto importante avere un ambiente positivo, proprio perché noi lì trascorriamo molte ore. Il quinto punto è prendersi una pausa ogni tanto. Staccare la spina dai consueti impegni personali o professionali è molto importante, perché aiuta il nostro organismo a dare la possibilità di rigenerare e partire con una maggiore carica. Quindi dobbiamo semplicemente anche solo crearci degli hobby, come ad esempio uscire con gli amici, andare a mangiare un gelato, fare una passeggiata, insomma dare la possibilità al nostro organismo di rilassarsi un attimo per poi ripartire più cariche e più forti di prima. Ok ragazzi, ricapitolando, è molto importante quindi mangiare bene, fare attività fisica, ritagliarsi del tempo per fare quello che ci piace, ma dare allo stesso tempo la possibilità al nostro organismo di rigenerarsi. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto o volete altri video del genere, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, seguitemi anche su Instagram se ancora non lo fate, ci vediamo prestissimo con un nuovo video.